Questa è la base all'interno della torre del castello, la metà stacola, l'altra parte. Comunque qua le mura, ecco qua le mura, queste sono tre metri di spessore, sì esattamente tre metri di spessore. L'altra parte si trova qui, ecco l'angolo, guardiamo sopra, vedete, e qui, quei buchi c'erano dei travi, e poi un altro piano, ecco qua l'operitore per avvistare, e qui sicuramente si saliva sopra, alla croce, guardate che bel panorama, bellissimo,